Descrizione SCP-042 è un animale da ritenersi apparentemente genere ecus No, appartenente vecchio, apparentemente, che cazzo La dieta liquida nutriente, somministrata con forza, lo tiene in vita, ma risulta... E... emaciato, che cazzo è emaciato vecchio? Se viene consentito, SCP-042 sarà deposto dal suo immob... Sarà deposto sul suolo immobile Vabbè Il monitoraggio dei livelli locali I livelli locali Il personale che interagisce... Allora Il personale deve sottopor... Il personale... Va al fianculo Cavallo di merda, ti mangio col sugo, porco, io sono salentino, ti mangio col sugo Con affetto, però, o robicchino mio, o lo sai, ma